Nel giorno del suo insediamento, il nuovo presidente della Corea del Sud, Yun Suk-yeol, lancia un messaggio al regime di Pyongyang. Se la Corea del Nord veramente avvia un processo per completare la denuclearizzazione, siamo pronti a lavorare con la comunità internazionale per presentare un piano ambizioso che rafforzerà ampiamente la sua economia e migliorerà la qualità della vita della sua popolazione. Tra i primi capi di Stato che Yun Yuk-seol incontrerà nei prossimi giorni, c'è il presidente americano Joe Biden, che sarà in Asia tra il 20 e il 24 maggio.